Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo di cronaca della DIA, la divisione investigativa antimafia che ha indagato su un clan che di fatto favoriva i casalesi. Ci sono stati sette arresti e perquisizioni anche a Porto Gruaro. Di fatto erano ormai da tempo in atto delle estorsioni proprio per favorire un clan della mafia. Sentiamo allora il servizio di apertura del nostro telegiornale. La DIA di Trieste con l'ausilio della DIA di Napoli, di Milano, di Padova e di Bologna, nonché della Guardia di Finanza del capoluogo Giuliano, ha eseguito sette ordinanze di custodia a cautelare in carcere disposte dal GIP del Tribunale di Trieste nei confronti di soggetti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver costretto professionisti e imprenditori italiani e stranieri, attraverso minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti per favorire gli interessi del clan camorristico dei casalesi, secondo quanto appreso da fonti investigative. L'indagine ha preso via proprio dal broker portugruarese Fabio Gaiatto. Sono numerose le perquisizioni domiciliari che gli investigatori questa mattina hanno messo a segno tra Napoli, Milano, Modena, Padova, Treviso, Udine, Porto, Gruaro e Trieste. L'attività operativa ha visto l'impiego di oltre 100 unità, nonché l'utilizzo di sofisticati strumenti di ricerca e di localizzazione. Un'operazione contro il clan dei casalesi che hanno messo in campo estorsioni contro imprese e professionisti a Trieste dimostra quanto sia forte ancora il clan casertano e dall'altra parte quanto sia profonda la penetrazione al nord. L'operazione condotta dalla procura di Trieste è però assolutamente incoraggiante perché ogni giorno vengono eseguiti arresti e smantellati clan in tutta Italia. La tensione è altissima e non c'è nessuna zona franca in questo paese per le mafie. Doverò la magistratura alle forze dell'ordine che devono sentire vicino tutta la politica in questa battaglia quotidiana per la legalità. Lo ha ribadito Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia e Stefano Patuanelli, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato. E ora torniamo sulla tragedia di Concordia Sagittaria. La figlia più grande di Paola Castellette, la mamma 45enne del paludetto di Concordia, deceduta nel terribile rogo della loro abitazione. Bene, la figlia più grande ha spiegato agli investigatori che non si era accorta che la mamma non si era accorta della figlia più piccola che era di fatto dietro all'auto, troppo piccola perché la mamma la riuscisse a vedere e da lì infatti si era gettata tra le fiamme per cercare di salvarla, non sapendo che invece era già uscita. Da lì a poco, purtroppo, la tragedia. Sentiamo il servizio. La figlia più piccola era nascosta dietro l'auto e la mamma non è riuscita a vederla. E' questo il particolare che emerge nella ricostruzione della tragedia che è costata la vita a Paola Castellette, la 45enne di Concordia Sagittaria, morta domenica mattina nell'incendio della sua abitazione. La donna era tornata indietro la casa, dentro la casa in fiamme, per salvare la secondo genita di 11 anni, convinta che la piccola fosse ancora nell'abitazione mentre in realtà si trovava già all'esterno, a pochi metri da lei. Era dietro l'auto e mamma non l'ha vista, ha riferito Lucrezia, la figlia più grande, ai soccorritori. Mamma era scesa per prima quando ha trovato il fumo che avanzava, ha riferito sempre alla primogenita. Paola Castellette forse pensava che nel rogo si fosse sprigionato nell'abitazione attigua in cui vive la mamma. Il fumo non avrebbe permesso poi di capire la reale situazione e la concitazione l'ha spinta al pian terreno. Quando però ha capito che la casa della mamma non era coinvolta nello spaventoso incendio, è tornata sui suoi passi. Ho visto che mamma è uscita dall'abitazione della nonna, ha spiegato ancora Lucrezia agli investigatori e quando mi ha visto si è preoccupata per mia sorella, non è riuscita a vederla anche se era lì, a pochi passi da me. Le due sorelle infatti, quando hanno visto il fumo, si erano già calate dalla finestra che dà sul retro, poi si sono spostate per raggiungere la mamma davanti alla casa. Si è trattato di attimi, forse bastavano pochi secondi a Paola Castellette per accorgersi che entrambe le figlie erano già al sicuro. Il destino ha invece voluto che la più piccola fosse dietro a quell'auto della mamma e che Paola, uscendo dalla casa della nonna, non la potesse vedere. Il momento con il buio a quell'ora, erano circa le sei e un quarto, non le ha permesso di attendere quell'istante che avrebbe potuto garantirle la salvezza. Così Paola è entrata in casa. È stata l'ultima volta che abbiamo visto mamma, ha continuato a spiegare la figlia a ventunenne, chiamava in continuazione mia sorella e dopo pochissimo si sentiva solo il crepitio dell'incendio. Compresa la drammaticità del momento, anche il vicino di casa si è mobilitato per cercare di salvare la 45enne di Concordia, tentando di entrare da una finestra, ma il fumo non gli ha permesso di andare oltre. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri di Porto Gruaro sono riusciti a raggiungere la camera da letto di Paola, purtroppo non c'era più niente da fare. La Castellette è deceduta per le esalazioni del fumo che l'hanno intossicata, non permettendoli di proseguire verso la finestra, a pochissimi metri. Per i carabinieri la dinamica è chiara, tanto che il PM di Pordenone, che indaga sulla tragedia, non ha ritenuto necessario l'autopsia. Intanto è arrivato nulla ossa dei funerali, saranno celebrati giovedì alle 15 nella Cattedrale di Concordia. Convalidato il provvedimento di sequestro dell'abitazione di Via Battisti a Paludetto, il NIAT, lo speciale nucleo di investigatori dei vigili del fuoco e i carabinieri, stanno continuando le indagini. Pare accertato il corto circuito dell'impianto elettrico, con il salvavita che è scattato regolarmente. Purtroppo le scintille avrebbero scatenato l'incendio prima che venisse staccato l'impianto. Gli investigatori hanno localizzato l'origine del ruoco nell'open space, tra il salotto e la cucina, in corrispondenza della presa in cui erano allacciate le luci dell'albero di Natale. Ora sono in corso gli accertamenti di laboratorio per capire se il corto sia scaturito dalle luminarie o dalla presa elettrica. A Oderzo i vigili del fuoco sono entrati al mercato, non tanto per un problema legato a qualche incendio o ad una particolare emergenza, quanto piuttosto per verificare se il mezzo dei pompieri riesce ad entrare. Da qui serviranno delle nuove verifiche e di fatto verranno spostate alcune bancarelle. Ma sentiamo il servizio. Il mercato del mercoledì fatica a superare la prova dei vigili del fuoco in via Mazzini e in via Riva Monticano. Per verificare la sicurezza non c'era altro modo se non quello di far passare il camion dei pompieri fra le bancarelle, ha detto il vice sindaco nonché assessore al commercio Michele Sarri. Abbiamo rilevato delle criticità ma meno di quanto si temeva. Il nostro obiettivo, prosegue il vice sindaco, è quello di ampliare il mercato settimanale, non certo di ridurlo. Stiamo predisponendo il piano per la sicurezza del mercato e mi sono giunte voci secondo cui l'amministrazione vorrebbe ridurre le bancarelle. Niente di più falso. Abbiamo individuato Piazza Castello come area dove espandere il mercato. È vero, qui potranno essere trasferite alcune attività che per motivi di sicurezza hanno difficoltà a rimanere in via Umberto I piuttosto che in via Riva Monticano. Ma nessuno ha mai parlato di un trasloco in blocco. La scorsa settimana i vigili del fuoco hanno fatto una prova pratica. Le norme sulla sicurezza indicano che fra le bancarelle devono poter transitare i mezzi di soccorso come le ambulanze o i vigili del fuoco e sono stati i propri pompieri con il loro camion a passare fra le bancarelle, in via Umberto I come in via Rizzo, in Piazza Grande e in via Mazzini. Il timore era per via Umberto I. Si temeva che il camion dei pompieri non riuscisse a transitare e invece qui le cose sono filate tutto sommato lisce. I problemi sono invece in via Mazzini all'altezza del ponte del Gattolè risponde il vice sindaco e in via Riva Monticano perché qui la strada è aperta via il transito delle auto che vanno al parcheggio di via Ginaroma piuttosto che in fondo verso vicolo dei Molini e si fa fatica a passare tra le bancarelle. Stiamo studiando come risolvere e non c'è fretta alcuna. Vogliamo che le cose siano fatte in modo serio e coordinato soprattutto collaborando con gli operatori commerciali. In Piazza Castello potrebbero trovare posto una dozziera di bancarelle, dipende sempre dalle dimensioni. Oltre ai trasferimenti, aggiunge Sarri, potrebbero trovare posto altri operatori come già avvenuto per il mercato contadino del sabato. Nelle ultime settimane si è aggiunta una nuova bancarella di verdura. Abbiamo accolto l'occasione delle concessioni in scadenza per procedere al riordino dell'intero comparto. Si lavorerà dunque a questa operazione nei prossimi mesi. Cambiamo decisamente pagina, andiamo a Jesolo, parliamo di It Jesolo, quando l'enegostronomia la fa da padrona nel mondo del turismo. Sentiamo allora il servizio di Fabrizio Civin. E di Somma arriva. Tutto nasce da uno studio che evidenzia come al turista, o comunque a tutti noi, piace mangiare. Ecco, l'elemento più qualificante di quell'indagine? E' che a fianco al piacere del mangiare c'è il piacere di imparare, di conoscere attraverso il prodotto, l'origine del prodotto, la storia, i produttori, l'ambiente sostanzialmente. Cioè il consumatore, il turista gastronomico è un turista culturale. E non a caso, turismo gastronomico e turismo culturale sono i due filoni più cresciuti negli ultimi anni. Ecco, questa rete di imprese, questo It Jesolo non è semplicemente una serie di serate enogastronomiche, è molto di più. È molto di più. Noi facciamo leva sull'internet dei menù. Mettiamo gli ingredienti dei nostri piatti su questa piattaforma, li raccontiamo, li leghiamo ai produttori di qualità eccellenti che sono in Veneto e sostanzialmente li mettiamo a disposizione dei clienti, anche potenziali, cosa che non è stata fatta in Italia. E in più, visto che siamo dal mare, plurilingue, persino in russo. Flavia Pastò, assessora del turismo del comune di Jesolo, oltre al mare, oltre alle manifestazioni, oltre alla laguna, oltre ai grandi eventi, adesso anche l'enogastronomia come forma di valorizzazione dell'eccellenza del territorio e per attrarre anche più turisti. Sì, direi che l'enogastronomia mai come in questo periodo si sta dimostrando veramente una forte attrazione per le persone e per i turisti. Basta vedere tutti i programmi di cucina che ci sono appunto in questi anni nelle reti nazionali e quindi perché non approfittarne e fare dell'enogastronomia anche un'attrazione, una novità per i nostri turisti. E quindi abbiamo deciso di supportare questo progetto It Jesolo perché secondo noi è giusto che anche i nostri ristoranti, i nostri prodotti, le nostre eccellenze del territorio si fondino in un'impresa e veramente creino un sistema per portare e a scoprire tutte le eccellenze, tutte le novità a livello culinario che il nostro territorio può offrire. E ora andiamo a Ponte di Piave, sono in arrivo dalla regione 7 mila euro per il sistema di videosorveglianza, un contributo prezioso per la sicurezza dei cittadini. Lo ha ribadito Sonia Brescacin, consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente, che ha commentato la decisione della giunta regionale di finanziare il rifacimento e potenziamento della videosorveglianza di Ponte di Piave, oggi commissariato. Il contributo arriva da Palazzo Balvi grazie alla richiesta di un finanziamento che era stato presentato dal sindaco Paola Roma, ha detto la stessa consigliere, è stato calcolato in 6.869 euro e andrà a coprire più della metà della cifra spesa dal comune, pari a 11.970 euro. Un bel sollievo decisamente per le casse comunali e anche per i residenti di Ponte di Piave, preoccupati dal resto per i numerosi casi di furti nelle abitazioni e nei locali della zona che si sono verificate negli ultimi mesi. La giunta regionale stanziando questo contributo è andata incontro alle esigenze dei cittadini spendendosi nel sottore della legalità e della sicurezza. Andiamo a Portuaro, parliamo di sport, calcio, calcio femminile che cambia decisamente campo. All'Ovisa le Rosa Granata hanno riconquistato la fiducia e hanno conquistato tre punti. Sentite. Non avrà il fascino del Mecchia ma il campo di Vialovisa regala i meritatissimi primi tre punti della gestione Favro. Il nuovo allenatore mischia le carte e schiera Morgan Bravin davanti alla difesa per dare copertura ed equilibrio. La mezzala sinistra è Donatella Novellino che ha la fascia del capitano al braccio ed è molto presente nello sviluppo dell'azione. Da lei al tredicesimo arriva l'assist per Aurora Finotto che alza di poco nonostante il terreno scorbutico. Le Granata cercano di non buttare via la palla fondamentalmente postulato della teoria di Favro anche a costo di sbagliare come Elena Comacchio al ventiquattresimo tradita. Dal fango di Vialovisa infatti rinvia corto su Alessia Arman. Elisabetta Volpatti salva a porta, vuota il tiro della Mazzocato ma sopraggiunge la Codemo che centra la traversa. L'inversione degli esterni offensivi Granata porta Anna Battagiotto a stringere più verso la porta aumentando la pericolosità del porto che al quarantesimo passa. Chiara Roveretto trasforma di precisione un rigore fischiato per Caterina Pilla proprio sulla Battagiotto. Il vantaggio però dura solo tre minuti, tanto basta all'esperta Garbuio per arrivare prima di Silvia Scudeler su un rinvio difettoso di Marika Chiarot incrociando imparabilmente dal limite. Sulla sirena del primo tempo la Finotto corregge un tiro cross della Battagiotto ma Sara Dalbon risponde dalla grande anticipando la sua serie di straordinari interventi della ripresa. Come al quattordicesimo quando sventa il destro a giro di Giorgia Furlanis o al ventunesimo quando zompa su una violenta punizione di Albulena Gashi. La difesa trevigiana col passare dei minuti fatica a seguire gli inserimenti delle locali e sulla destra la pilla resta molto bassa lasciando campo alle discese di Minutello e Finotto. Il porto attacca ma fallisce occasioni colossali o per imprecisione o per bravura della Dalbon finché al trentottesimo su una verticalizzazione della Novellino alla Finotto brucia Paola Basso e spalanca la porta alla Furlanis che appoggia in rete. Tornato in sorriso in Riva Lemele il lavoro durante la sosta sarà affrontato con la mente più sgombra per memorizzare in fretta postulati e teoria di Antonio Favro. Il nuovo mister ha portato aria nuova e ha dato anche un po' di grinta in più quanto basta per portare a casa una buona vittoria combattuta e passare magari le feste con un clima davvero positivo. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna, c'è Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale potete seguirci sulla pagina Facebook dei Media24 o sul nostro canale YouTube. Grazie a voi tutti e buon proseguimento con la nostra rete. Alla prossima